Somministrare alcol, in particolare superalcolici, ai minori è un reato. È un reato che non può essere accettato, che venga perpetrato nella nostra città. La Polizia Municipale ha chiuso in maniera preventiva un locale nel cuore della città di Arezzo in via Oberdan. Il bar alle mie spalle infatti somministrava bevande alcoliche a minorenni. Noi avevamo constatato alcuni giorni fa una situazione che ci aveva molto preoccupato, in quanto intervenendo in quello stesso esercizio si era notata la presenza di circa una quarantina di giovanissimi che a sopraggiungere della pattuglia si erano dati precipitosamente alla fuga, ma sopra il bancone erano rimasti quasi oltre un centinaio di bicchierini, che qui avete l'abitudine di chiamare sciottini. Per terra numerosissime bottiglie di birra e di bevande superalcoliche, quindi questo testimoniava una situazione direi pesante. All'interno del locale di proprietà di un cittadino bengalese venivano serviti a giovanissimi shot di vodka, sambuche ed altri superalcolici a 60 centesimi durante la settimana e a un euro nei weekend. Lo scorso sabato sono entrati in azione sette agenti della Polizia Municipale. Si è potuto constatare in due casi la somministrazione a persone molto giovani. Questi due ragazzi sono stati fermati nei pressi, ovviamente dove non potevano essere visti, che venivano interrogati, e si apprendeva che erano giovani di età inferiore a 16 anni, per la precisione in entrambi i casi 15 anni. Il tutto era partito da un esposto presentato da alcuni residenti. Ci segnalavano, quindi non solo la giovanissima età di coloro a cui venivano somministrate queste bevande, ma soprattutto anche la presenza, e quindi musica ad alto volume, che peraltro noi non abbiamo verificato quella sera, e la presenza di spacciatori. Oltre al sequestro preventivo, sono stati inflitti al titolare del barban 11 sanzioni per un totale di 11.000 euro. Adesso aspetterà la magistratura a decidere sulla durata della chiusura. Questa è una questione che dovrebbe preoccupare prima di tutto noi genitori, perché questa moda del bere porta poi a dei problemi di tipo sociale, quali ad esempio scadimento del rendimento scolastico, aumento delle assenze, e anche diminuzione della capacità scolastica. Grazie.